L'abbiamo sentito anche cantare le canzoni di Rossi Corazzotti Eccolo qua, il castello delle ceccone, Paolino, chi è che non lo conosce? Sono venuto con il cuore, tu lo sai che io domani, anzi domani mattina verso le 8 ho il treno per Cinecittà Come potevo rifiutare il tuo invito? Mai, mai, perché tu te lo meriti Un applauso per Angelo Sono Massimo, ho dato alcuni prima Dio un'altra volta, alcuni Sì, ma è buono ma come lo fa, dico, devo dire, chiederti, mettono massimo al compleanno Allora, il 16 aprile ci sarà l'ottava edizione, quindi il mio compleanno preparate di buon compleanno Si, proprio devi cercare gli auguri anni Giusto, ottimo Allora, andiamo avanti, c'è anche Lucia Cassini, la storia della nostra canzone Allora, ci presentiamo dopo anche te perché c'è il momento moda Allora, Lucia Cassini, non? Sono fagli auguri, è Angelo, è un nome bellissimo, è gli angeli E poi oggi è la giornata dei nomi, sapete? A cui da tutti i primi Lucia la voglio bene, Lucia è la nostra energia Ci vogliamo alzare un attimo in piedi per Lucia Cassini? Ci vogliamo alzare, lo merita, con Balla Donna Ducceo che l'ha portata in cima al mondo Grazie, grazie, siete carinissimi Però queste cose fanno bene, fanno bene al cuore Accordati localmente Io stasera mi sono portato solo un bastone perché sto ancora camminando Sapete, ho stato molto male, però lui a seguita dall'inizio Ebbene, noi facciamo il finale, lo facciamo con Balla Balla Cucette e balleremo tutti, non ti preoccupare E adesso un momento importante, ah c'è la bellissima Ma lei è una bellissima cantante, un'attrice Giulia Ferraro Bravissima, e mi ha fatto parte la mia piccola E a proposito tu fai presto e li devi girando Ok, li devi girando Allora, a disposizione Ragazzi, di nuovo a dopo, vieni con il finale, ok? Ci siamo E adesso è il momento della moda Signore e signori Allora, accogliamo con un grande applauso uno stilista eccezionale Salvatore Fiorentino E ci presenta, dove è? Eccolo qua Applausi a scena aperta con lui Salvatore! 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 Prima la sfilata e poi c'è Salvatore E' giusto perché i grandi artisti si fanno a tendere Signori, la moda di Salvatore Fiorentino